ciao dolcette finalmente è uscito il secondo capitolo della storia con armin e non vedo l'ora di scoprire come si evolveranno le cose con lui si intitola 201 created dopo quel bacio appassionato tu e armin vi siete subito lasciati come così si sono baciati si sono separati all'istante e oggi eccolo di nuovo davanti alla tua porta sembra proprio che non abbia intenzione di fermarsi lì ok prevedo un bel capitolo pronta a rivivere le emozioni dei primi appuntamenti a non vedo l'ora perché armin è uno dei miei preferiti e devo dire che lo scorso capitolo mi è piaciuto veramente tantissimo quindi insomma spero che questo secondo capitolo ci dia molto molto di più cominciamo subito ok siamo già nella nostra stanza e qui c'è Yilin ero così arrabbiata e nello stesso tempo non lo so rivederlo ha fatto riaffiorare tante cose quindi noi praticamente stiamo raccontando tutto a Yilin beh soprattutto la rabbia ma non solo insomma alla fine ci siamo ritrovati ad urlarci addosso nel negozio micro game e l'ho baciato un po per farlo tacere e un po perché non lo so non so cosa mi abbia preso ci sembra strano lei ha un'espressione che dice tutto Yilin ha fatto una specie di smorfia non sapendo troppo cosa rispondere l'ho conosciuta stamattina quando è venuta a portare i suoi bagagli in camera ma come l'abbiamo appena conosciuto e le abbiamo già raccontato tutto così vabbè mi è sembrata una tipa piuttosto riservata mette un po in soggezione nonostante questo abbiamo chiacchierato un po insieme soprattutto io in realtà e non ci ho messo molto a parlarle di quello che è successo ieri il fatto è che sono incapace di pensare ad altro e poi un orecchio del tutto imparziale potrebbe aiutarmi a vederci un po più chiaro e tu cosa avresti fatto al posto mio se dovessi mettermi a baciare la gente ogni volta che desidero far tacere qualcuno baceresti chiunque praticamente dovrei saltarti addosso e baciarti focosamente sulla bocca ma vabbè adoro ha dato un morso al suo cupcake pensierosa rispondiamo la prima non indurmi in tentazione lì per lì la mia risposta alla sorpresa poi mi ha sorriso divertita non ne hai avuto abbastanza ieri inoltre mi dispiace ma non sei proprio il mio tipo scherzavo e poi sì è vero ne ho avuto più che abbastanza beh visto che ormai hai iniziato cosa mi stavi dicendo? ah non lo so più che hai baciato il ragazzo con cui era al liceo in un negozio micro game e dopo cosa è successo? non ne abbiamo parlato era strano ci siamo lasciati in tutta fretta per evitare l'imbarazzo non sono neanche andata a salutare i miei amici sono tornata subito qui oh 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 c'è qualcuno che bussa vediamo un po' chi è che cosa? aspetti qualcuno? visto che condividiamo la stanza sarebbe bene che mi avvertissi la prossima volta ma no non aspetto nessuno ho scosso la testa e mi sono alzata per andare ad aprire la porta è lui è lui è lui è lui ok scusate è lui quando ho visto Armine in corridoio mi è venuto un colpo ma quanto è bello cosa ci fai qui? e come fai a conoscere il mio numero di stanza? e sarà stato Alexi ciao anche a te è il responsabile amministrativo che me l'ha dato ma certo io ho dovuto discutere con lui per un'ora per averlo perché secondo lui ero arrivata troppo presto ma a te l'ha dato subito forse sono più bravo di te nelle trattative in realtà me l'ha dato in cambio di un piccolo favore che tipo di piccolo favore? si può sapere? voleva cambiare parametri del cellulare e si è ritrovato con le impostazioni in armeno che lingua è scelta? magari in inglese sarebbe stato meglio era disperato ma SuperArmin è riuscito a risolvere il problema in qualche secondo perché SuperArmin conosce l'armeno? ma certo ah ok ma no non è vero però conosco bene il menu impostazioni della maggior parte dei telefoni è quasi sempre la stessa cosa ovviamente quindi gliel'hai rimesso in italiano e lui ti ha dato il mio numero di stanza? no non è in italiano mi ha chiesto di metterglielo in francese non so perché ti rendi conto che si tratta di una grave violazione del codice etico? da parte sua può darsi da parte mia non mi sembra comunque mi fai entrare? dobbiamo parlare non abbiamo niente da dirci io credo di sì e naturalmente morivo dalla voglia di sapere cosa aveva da dirmi pensavo morisse dalla voglia di saltargli addosso e baciarlo di nuovo invece no va bene allora di cosa vuoi parlare? del più e del meno del tempo che fa ma dai smettila lo sai benissimo non mi aspettavo affatto di rivederlo così in fretta non avevo neanche avuto il tempo di pensare alle possibili conseguenze del mio gesto a cosa significasse a cosa volevo davvero ero combattuta tra sentimenti contrastanti mi batte forte il cuore come se fossi felice di vederlo qui e la mia mente mi dice di sbattargli la porta in faccia e di dimenticare tutto al più presto si è irrigidito fissando qualcosa alle mie spalle magari qualcuno ma lei chi è? la mia compagna a distanza? un piacere mio ciao sono la sua compagna a distanza cerilin non fai entrare il tuo amico? le ho rivolto un'occhiataccia per tutta risposta mi ha sorriso con gli occhi scintillanti di malizia lei ha capito che lui si è seduta sul suo letto visibilmente contenta e ha preso un altro cupcake l'ha addentato senza smettere di fissarci certo che l'ha capito beh allora entra prego mi sono scostata per lasciare entrare Armin allora cosa vuoi? oh wow volevo che riparlassimo di ieri ho deciso di dar retta alla mia mente no e no non capisco a cosa tu faccia allusione sul serio? al momento in cui mi ha infilato la lingua in bocca no vabbè io adoro che sia così diretto le mie guance hanno immediatamente preso fuoco non dire così ah adesso te ne ricordi mi sono nascosta il viso tra le mani sospirando e sospirata hai ispirato come per farsi coraggio ok ascolta quando mi hai quando ci siamo baciati mi sono reso conto che è come se ad un tratto tutto fosse di nuovo come prima capisci? quando tra di noi tutto andava bene era perfetto e mi sono soprattutto reso conto di quanto tutto ciò mi fosse mancato a che punto tu mi fossi mancata io nel mentre ragazze mi sto immaginando Yilin seduta lì sul suo lettuccio che mangia tipo il muffin o il cupcake quello che è tipo come se fosse al cinema si sta gustando tutta la scena non ho smesso di pensarci da quando ci siamo lasciati ieri e anche a tutto quello che ci siamo detti prima eh Alex ha ragione è stato un gran peccato avrei dovuto mettere da parte il mio orgoglio e fare di tutto per rincontrarti quando hai messo giù il telefono e adesso vorrei che ci dessimo un'altra possibilità sono cresciuto maturato so che questa volta sarò meno sconsiderato tentare non ti costa niente voglio dire male che vada puoi sempre lasciarmi di nuovo ma non potevo lasciare le cose così non dopo ieri io mi sono sciolta sono pronto a tutto per riprovarci no vabbè eppure gli occhi lucidi basta mi ha conquistata sembra sincero ha le guance arrossate e gli brillano gli occhi man mano che parlava il mio cuore era sempre più in subbuglio quando ho smesso di parlare mi sono resa conto che trattenevo il respiro vedere Armine lì alla mia porta parlarmi così l'avevo sperato sognato così tanto qualche anno fa non è troppo tardi è davvero possibile ricominciare non voglio più soffrire come ho sofferto ma vederlo ieri toccarlo baciarlo mi ha fatto sentire più viva che mai da molto tempo a questa parte e e per essere del tutto sincera con me stessa anch'io in fondo ho mancato di maturità all'epoca che che cosa ne pensi Cherylin ero come paralizzata da vari minuti Armin aspettava una risposta allora ma scusate io direi direttamente va bene va bene sì va bene è quello che ho detto e che non mi aspettavo che avresti detto di sì così facilmente Yilin ha dato un morso al cupcake completamente assorbita dalla nostra discussione mi ero dimenticata che era lì anche Armin a quanto pare perché volevi che ti dicessi di chiedermelo in ginocchio per caso l'avrei fatto cosa credi accidenti allora mi sono perso un'occasione già ma sono felice della tua risposta ha sfoderato un sorriso di trionfo Yilin ha tossicchiato ha scelto strani tutti e due carini certo ma strani e credo sia ora che vi lasci ad ogni modo sono forse io che dovrei chiedere dei consigli tutto sommato senza aspettare risposta Yilin è uscita chiudendo la porta in un certo senso la sua presenza mi infondeva coraggio adesso che siamo da soli mi sento un po' agitata Armin ha fatto un passo verso di me allora sei davvero d'accordo ci riproviamo pende dalle mie labbra aspetta che dica qualcosa anch'io sai ho ripensato molto al nostro bacio avevamo entrambi dei torti lo riconosco avrei dovuto parlarti apertamente senza mezzi termini ha annuito visibilmente soddisfatto di questa constatazione allora sì sono d'accordo per riprovarci ma prima vorrei porre varie condizioni perché ho davvero sofferto troppo a causa della nostra relazione ha fatto una piccola smorfia sentendosi in colpa quindi chiariamo subito una cosa non siamo ufficialmente insieme sono d'accordo per darci un'altra possibilità ma niente di più di questo una possibilità una possibilità per te di riconquistarmi se ho ben capito si è avvicinato un po' di più e mi ha sussurrato all'orecchio sono sicuro che tra non molto sarai tu che ti metterai in ginocchio davanti a me e sì adesso non fa lo spavaldo però il mio corpo è stato attraversato da un fremito all'evocazione di questa promessa ma non gli permetterò di ribaltare la situazione così facilmente in realtà pensavo piuttosto il contrario dato che hai utilizzato mezzi subdoli per venire qui forse sono ingenua ma credo di averti già riconquistato beh allora siamo già a metà strada in questo caso dammi la possibilità di riconquistarti mi sento all'altezza della sfida ecco è così che la vedevo se ti va stasera per cominciare ti porto a vedere un film di fantascienza poi potremmo meep armin è trasalito fissandomi a bocca aperta scusa credo di aver sentito meep cosa vuol dire meep non ho detto meep faceva il rumore di un segnale acustico sai il buzzer il segnale acustico non fa meep fa vabbè ci siamo capiti ok è proprio per questo che in inglese si chiama buzzer ma smettila non è questo il punto ok va bene allora perché hai fatto il rumore del segnale acustico perché la tua risposta è tutta da rivedere ah no vabbè che occhi ha ok credo di cominciare a capire perché ti ho proposto qualcosa che piace a me invece di chiederti cosa ti piacerebbe fare bravo un applauso ad armine che sta finalmente capendo tutto e pensi che per riconquistarti come prima mossa questa non sia molto azzeccata la prima proprio così vedi che quando ti ci metti capisci tutto al volo sì sì ho capito farò attenzione d'ora in poi hai diritto ad un altro tentativo assunto una posa teatrale come si preparasse a declamare una poesia io ho fatto l'occhiolino per incoraggiarlo cerilin dato che nella tua infinita bontà hai accettato di lasciarmi tentare di riconquistare il tuo cuore mi hai rivolto uno sguardo interrogativo per sapere se cominciava bene il tono è un po' enfatico ma prego vai avanti cosa ti piacerebbe fare per il nostro primo appuntamento oh e quando vorresti che ci vedessimo io sono libero anche stasera se ti va stasera va benissimo ho sentito parlare di una passeggiata molto carina su un sentiero che inizia il parco e che arriva fino alla spiaggia rido dentro di me questa sì che è una sfida difficile per lui fare una passeggiata all'aperto infatti non è per niente contento dato che è un giocatore esperto fa di tutto per non mostrare la sua delusione una passeggiata stupendo fa parte della top 2000 delle mie attività preferite non è proprio in cima alla classifica ma vabbè non importa pur di stare con te fare qualsiasi cosa ah meraviglioso allora ti dico stasera alle 6 e mezza al chiosco va bene fatti bello più bello di così non sarà facile mentre si chinava verso di me per baciarmi mi sono spostata e io ho aperto la porta non essere troppo impaziente ricominciamo dall'inizio cercando di fare le cose per bene va bene hai ragione e far play a stasera ho chiuso la porta dietro di lui il cuore mi batte all'impazzata bene eccomi da sola devo pensare a cosa mettere stasera come mi vesto ho voglia di indossare qualcosa che gli farà rimpiangere amaramente di avermi lasciato andare via sono impaziente di vedere la faccia che farà quando mi vedrà ma prima devo andare a lezione ok quindi andiamo a lezione pensavo ci dessero subito la tenuta invece no entrando in biblioteca ho subito visto zia seduta ad un tavolo ha alzato gli occhi dal portatile facendomi segno di raggiungerla cerilin tesoro come stai tutto bene sì sì tutto bene grazie cosa fai studi no sono venuta qui per avere il wifi ho appena comprato questo portatile e volevo provarlo un uccellino mi ha detto che volevi comprarne uno ma non hai potuto ah già ecco è vero ho avuto un contrattempo zia si è alzata ha chiuso il portatile e me l'ha dato bisogna rimediare all'ingiustizia te lo regalo cosa grazie mille ma è troppo davvero troppo non c'è niente che sia troppo bello per te bellissima e poi ne hai bisogno comunque adesso non ho tempo di parlarne devo scappare mi ha soffiato un bacio sul palmo della mano e come al solito è sparita in un baleno uh che bello quindi la zia ci ha praticamente regalato un portatile dopo lo metterò e ok ragazzi allora io mi fermo qui con questo primo episodio quindi la prossima volta andremo a lezione e a quanto pare all'appuntamento con Armin comunque sono contenta che lo abbiamo rivisto subito e che lui farà di tutto per riconquistarci sono proprio curiosa di vedere insomma l'illustrazione che sbloccheremo in questo capitolo spero che questo episodio vi sia piaciuto se così vi invito a lasciarmi un bel pollice in su io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero di rivedervi anche nel prossimo ciao ciao